Il presidente dell'Adi Consum Calabria, Michele Gigliotti, esprime apprezzamento per il ritiro della proposta di modifica della legge regionale antridrangheta e chiede, con ancora maggiore convinzione ai consiglieri proponenti Giuseppe Gazziano, Francesco Denisi, Giuseppe Neri, Giacomo Pietro Crinò, Giovanni Arrussolo e l'intero consiglio regionale, di rendere maggiormente operativa all'attuazione della legge e laddove possibile migliorarla attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori previsti dalla legge stessa. La legge regionale del 6 aprile 2018, numero 9, testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui, al 28 dicembre 2018, prevede che la Calabria debba al più presto dotarsi di uno strumento che dia risposte immediate agli urgenti bisogni delle famiglie e ai soggetti più deboli. Nel testo della legge in questione non sono stati, purtroppo, inseriti tutti gli strumenti inizialmente previsti dal legislatore. L'articolo 3, per esempio, è stato disatteso nella parte in cui si prevede l'istituzione dell'osservatorio indipendente sull'attuazione partecipata, definendone ambiti ed azioni. Al netto di queste discussioni è comunque evidente che questa norma, senza dubbio, un riferimento legislativo importante non solo per i calabresi, ma anche per gli abitanti delle altre regioni italiane. Adiconsum Calabria, dice ancora Gigliotti, è disponibile a proseguire nel solco di questo percorso intrapreso e sempre più convinta che, solo attraverso la cooperazione di tutte le forze sane della regione, si potrà fare fronte comune per lottare contro questi pericolosi fenomeni. Garantire il supporto e l'adeguato sostegno psicologico e ludopatici alle vittime dell'usura, aumentare la capacità di ascolto di chi vive questi drammi, sostenere con azioni concrete la scelta di opporsi e combattere vincendo il muro dell'isolamento e del silenzio, sono obiettivi imprescindibili che bisogna perseguire concretamente e con decisione, se si vuole davvero con i fatti, aiutare queste persone nel nome della legalità.